Musica Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento metodo di TRG. Andiamo ad analizzare la situazione per quanto riguarda la nostra penisola, la situazione che vede una perturbazione da nord-est in entrata su tutto il territorio nazionale che coinvolgerà anche la nostra regione già a partire dalle prossime ore. Con precipitazioni e un abbassamento molto rilevante, soprattutto nelle temperature massime. Poi vediamo nel proseguo della settimana, a partire da mercoledì, una seconda perturbazione come ci mostra la cartina che invece sarà una perturbazione atlantica, quindi meno fredda della precedente, che però porterà piogge soprattutto nella giornata di mercoledì e parte della giornata di giovedì. Vediamo ora nel dettaglio cosa accadrà per la giornata di martedì 12 marzo, giornata che partirà con cieli poco parzialmente nuvolosi e temperature abbastanza fresche per il periodo. Infatti l'aria fredda in entrata abbasserà sia le temperature minime che le temperature massime con le minime che potrebbero scendere sotto zero, soprattutto nelle pianure e nelle vallate della nostra regione, con valori anche di meno 3-4 gradi, mentre le temperature massime subiranno, come detto, un forte calo e si attesteranno fra i 6-9 gradi. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.